al giorno oggi vi presenterò uno splendido una splendida applicazione che si occupa del meteo sicuramente su android potete trovare moltissime applicazioni per quanto concerne la meteorologia le previsioni del tempo però oggi ve ne scelgo una che a mio avviso è molto 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 valida e molto interessante anche da recensire e da farvi vedere allora meteo android nclock fantastica applicazione di devexexpert.net recensioni come vedete ottime quindi come al solito entriamo nel play store la installiamo e ritroveremo l'applicazione nel nostro menu eccola qua android weather come vedete nella schermata principale abbiamo un menu molto semplice diviso in caselle meteo in questo caso viene settato o settato come città quella di appartenenza potete settare anche la posizione in base a google maps molto semplicemente aggiungere un numero pressoché infinito di località in cui volete di cui volete avere informazioni sul tempo una mappa che come vi dicevo prima è comunque collegata a google maps e i settaggi che comunque sono numerosissimi come potete vedere potete utilizzare il il posizionamento attraverso il GPS una selezione manuale come ho fatto io utilizzare gli aggiornamenti solo tramite connessione wifi oppure il roaming una frequenza di aggiornamento che può variare da 15, 30 eccetera eccetera a questo punto io direi di alzarlo a 6 ore unità di misura il fornitore dei servizi di meteorologia e così via adesso andiamo a creare una nuova pagina in cui testeremo il widget come potete vedere ci sono diversi diverse tipologie di widget dal semplice stato meteorologico una previsione più ampia basata sulla settimana e così via come potete vedere abbiamo diverse possibilità di widget ve le elencherò ve le elencherò una a una allora il principale come vedete stato sereno un click sul widget per riportarci alla pagina principale previsione lungo la settimana ovviamente tutti i widget sono ridimensionabili lì cancellerò uno a uno e aggiungerò per finire il widget più complesso più ecco qua tac allora questo lo si elimina ok dunque nel widget più corposo chiamiamolo così c'è la possibilità di utilizzare anche delle seconde funzioni ovvero nel selezionare ad esempio la data possiamo subito interfacciarci alla sveglia quindi è un collegamento veloce voilà e poi ovviamente sul calendario schiacciando sulla data questi collegamenti veloci sono personalizzabili nel menu sotto menu settaggi widget lo stile del widget ci permette di avere diverse interfacce svegli orologio vedete queste sono i collegamenti veloci sveglio orologio toccando l'applicazione di clock applicazione di calendario il formato data eccetera eccetera questo widget a mio avviso entra nella top 10 dei widget che riguardano il meteo io assolutamente lo consiglio a tutti e per la comodità del widget stesso per la completezza per il fatto che comunque è gratuito e già con il livello proprio di base del widget possiamo avere tantissime tantissime features con questo è tutto io vi saluto e vi rimuardo